Grazie a tutti. Il nostro mondo ha bisogno più che di testimoni, più che di maestri, di testimoni e ha bisogno di maestri nella misura in cui questi sono anche dei testimoni, quindi non ha bisogno soltanto di gente che fa le ricchiacchie, magari anche fatte bene, ha bisogno di persone che diano testimonianze di vita, cioè che con la loro vita testimoni non c'erano in cui credere. Bene, dal filmato penso che questa affermazione di Paolo VI possa avere trovato una conferma nella figura di Giuseppe Lazzari, dato sicuramente un testimone e proprio perché testimoni anche maestri. 2 giugno, festa della Repubblica, il settantesimo della nostra Repubblica. Devo dire che si tratta di una felice coincidenza perché siamo qui a ricordare insieme questo, facciamo cadere tutta la retorica, ma siamo qui a ricordare insieme questo padre della patria. Padre della patria. In che senso padre della patria? Nel senso che ha partecipato, come si è visto, a quel momento fondamentale di costituzione della nuova Italia dopo il fascismo, della nuova Italia repubblicana e democratica, attraverso appunto i lavori della Costituente, cioè di quella grande assemblea, non di nominati, come si dice oggi, ma di eletti dal popolo, una grande assemblea di eletti che aveva un compito fondamentale, quello di scrivere la carta costituzionale, la carta costituzionale che è entrata in vigore, come sappiamo, il primo gennaio del 1948 e che è il dottore in vita, anche se saremo chiamati tra qualche mese a dire la nostra, sì o no, sui cambiamenti che hanno introdotto. Non è questo motivo nel momento della nostra incontro. Bene, lazzati, come capita qualche volta nella vita di figure importanti, si ha l'impressione che lo scorrere della esistenza di queste persone sia tutto lineare, tranquillo, poi a un certo momento c'è l'incidente, capita quel che si dice con una parola un po' raffinata, una cesura, cioè uno stacco netto. E lui era un figlio gennaio, era un commerciante, facevano i formaggi i suoi genitori, era un commerciante, però aveva una vita economicamente tranquilla, aveva studiato nei licei ben di Milano, andato all'università, una vita che si preparava, essendo persona, avrete capito, molto intelligente, si preparava anche a fare la carriera universitaria fino al 38. Poi ecco la cesura, la spaccatura, sono quelle cose che capitano nella vita, cioè la guerra, la caduta del fascismo, la repubblica sociale, e vieni a scoprire. Secondo che abbiamo sentito una larga di dentro. L'8 settembre lui era soldato a Milano, l'8 settembre capita quel che capita, e essendo come ufficiale degli Alpini, ma come tutto il mondo dei militari, chiamato a pronunciare la fedeltà al nuovo padrone, che era la Repubblica Sociale di Salò, che era, come sappiamo tutti, praticamente comandata dai nazisti, chiamato a dire se giuri fedeltà a questa o mantieni la tua fedeltà al re, la scelta funetta. E allora succede quel che ci ha ricordato lui, e qui io voglio rapidamente risottolineare, il mattino del 9 settembre, il 8 settembre dell'Armistizium, ad Olio, 9 settembre del 43 agli ufficiali radunati in Milano, nella caserma del Quinto Alpini, un ufficiale chiedeva ad uno ad uno se sceglievano di essere fedeli al giuramento di fedeltà fatto nel momento in cui erano entrati a far parte dell'esercito o di aderire alle formazioni fasciste. La seconda scelta li avrebbe fatti rientrare nel loro caso. La prima significava deportazione. Il sì alla prima scelta suonò come grido di libertà e caricati sui cani incominciò quella deportazione che di lager in lager si sarebbe conclusa con il rientro di lager in una voce del 1940. si fa presto a dire lager, ma migliore abbia provato. Bene, e allora comincia tutta questa avventura terribile che dura due anni con due inverni, non sa che condizioni vivevoli sono, che condizioni vivevoli. L'esperienza nei lager da tanti altri, per la verità, è sempre stata vissuta come un tempo di grande prova, di grande desolazione, di grande sofferenza. Ma al tempo stesso un tempo, ci vogliono degli spiriti elevati per dire questa cosa, un tempo di grazia, cioè un tempo di messa alla prova, come si usa dire oggi, no? Messa alla prova di quel che si è come uomini e come, nel caso suo, di uomini credenti. Tempo in cui si è messi alla prova. E quindi da questo punto di vista anche un tempo particolarmente significativo. Potremmo stare qui una serata intiera per raccontarci quello che Lazzati, insieme con Alper, ma lui fu certamente uno dei capi fila, combinò nei lager. Ci vorrebbe davvero una serata, ma non è il caso. Nel senso che tutto il suo impegno, tenete presente che dovrebbe intanto cominciare lui a resistere, a resistere. Io l'ho sentito più di una volta dire, voi non vi immaginate. Se quando guardiamo i nostri figli, i nostri ragazzi, che sono lì a scegliere tra tre tipi di carne, la bistecchina, la fesa, voi non vi immaginate cosa sono i morsi della fame. Oltretutto aggravati dal freddo nelle baracche e dalle botte magari dei capi, dei nazisti. Allora, quello che lui fece per resistere, ma per aiutare gli alperi a resistere, fu straordinario. Fu veramente straordinario. Andavano da lui i giovani delle azioni cattoliche. Lui era del 9, quindi nel 43 quanti anni aveva? 34. E andavano da lui i ragazzi giovani, di 22, di 3 anni, dicevano da uno del lei, perché l'uomo era, incuteva un po' di soggezione, nessuno si permetteva di dargli facilmente del tu, lei il professore. E gli dicevi tu sei dell'azione cattolica, quindi tu hai capito certe cose. Vabbè, tu devi resistere. Ma non ce la faccio più, tu devi resistere. È dunque tutta un'attività fatta di incontri, approfondimenti, incontri politici, incontri culturali. Avete sentito Alessandro Anatta. Alessandro Anatta è stato segretario del partito comunista italiano. Quindi, in quegli anni in cui i rapporti tra l'ideologia erano molto tesi, è una situazione anche complicata, il dialogo tra questi esponenti di ideologie diverse. In alcuni campi Natta visse insieme con Lazzati e aveva una stima grandissima. Io ho conosciuto Alessandro Nato, ho potuto anche scambiare qualche parola, aveva una stima grandissima, tant'è che fu lui, quando all'elezione del presidente del pubblico, venne fuori per chi fu a proporre anche il nome di Lazzati. Allora, un'attività di animazione culturale, di educazione, di dibattito, perché in loro c'era la speranza di ritornare in Italia. Non erano vite sicuri di tornare, ma la speranza era quella lì. E allora appunto il dibattito su come dobbiamo costruire la nuova Italia, il nuovo paese. E quindi davvero momenti di grande intensità. Il fatto è che Lazzati avete sentito, io cosa facevo nei campi? Io parlavo, e in questo senso era considerato un sovillatore, per cui lui ha girato 5, 6, 7 campi, perché è accusato di sovillare dei tedeschi, quindi loro facevano girare altri campi, non è come dire, noi siamo lì, giochiamo al calcetto, qui al campo dell'oratorio, andiamo all'oratorio in Lugnano, eh? C'è campi, volevo dire, 300-400 chilometri in giro per la Germania. E il mio entro a casa, dicevo bene, dopo due lunghi anni, eh? Due lunghi anni, due inverni durissimi, terribili. C'è un particolare che fa capire la statuta dell'uomo. A un certo momento Padre Gemelli, Padre Gemelli era il fondatore dell'Università Cattolica, nella quale Lazzati dal 1238 aveva cominciato a insegnare, quindi erano un giovane, un giovane professore, e Gemelli, per una serie di ragioni sulle quali adesso non è il caso di soffermarsi, si convinse a scrivere a chi di competenza una lettera per chiedere di rilasciare, di far tornare Lazzati in Italia, in quanto l'Università Cattolica aveva bisogno del professore. E questa lettera era un po' Lazzati, quindi dipendeva da lui, eh? Dipendeva da lui se dire sì, quindi tornare in Italia oppure no. E sono famose quelle sue parole secche che sono leggibili nelle lettere che lui scriveva il familiare. E le parole secche sono per me il resto. Cioè, di fronte alla possibilità di tornare in Italia, dall'inferno, perché il lager era sostanzialmente un inferno, e dici per me il resto. Perché il venire a casa voleva dire fare la figura del traditore, di quello che abbandonava gli amici. Tutte le cose che vi ho detto, adesso io vi lascio solo per me il resto. E questi sono uomini, eh? Non sono un po' ancora qua, come dicevo per l'Udana e la Civetta. Non sono un po' ancora qua. Questi sono uomini. Io rientro in Italia. Ve li avete sentito. Io rientro in Italia e Lazzati pensa di riprendere i suoi studi, di andare avanti a fare le sue cose. Lo trascinano, hanno usato questa parola, venne trascinato in politica. E lì ci fu lo zampino di Tossetti, quel mondo che avete visto, erano amici fraterni, anche se poi molto spesso non si intendevano del tutto. Viene trascinato in politica e dice ma no, ma guarda, tu c'è bisogno di impegnarsi qui, bisogna fare il paese, il paese è un disastro, siamo usciti dalla guerra. E allora lui si lascia convincere. disse, quando gli diedero una laurea non riscauso all'Università di Romani, in Belgio, disse, io fui politico, mio ma il grado. Non a mia insaputa, che c'è quello là che riceveva le case, ho su insaputa. Non c'entra niente. Fui politico, mio ma il grado. Cioè, non era il mio mestiere, non era la mia vocazione. Però fui trascinato dentro e capì che dovevo fare quella cosa lì. Conquistato la Costituente e poi ha fatto del 48 al 53 la prima legislatura. Poi il 53 disse, basta, vado a fare le cose che devo fare. Quindi è tornato ai suoi studi e è tornato all'Università. Si potrebbe naturalmente anche qui fare un'altra serata sull'Azati in quegli anni della politica, ma non lo possiamo fare. Dico solo due cose. La prima è questa. La democrazia cristiana, perché il partito di riferimento era la democrazia cristiana ed era la sinistra della democrazia cristiana. Cioè, il gruppo di Dossetti che erano anche molto critici verso De Gasperi. De Gasperi, sapete, è stata la grande figura che ha dominato la scena politica italiana insieme ad altri, ma nel senso che è stato il capo del governo per tante volte. fino a metà anni cinquanta. E... La prima cosa è questa. E questo gruppo, i Dossettiani, che era un gruppo di intellettuali, i professorini si chiamavano, i professorini, e c'era dentro Dossetti, c'era dentro la Pira, e c'era tanti altri. Lì, Lazzetti contribuì ad una definizione fondamentale, fondamentale che per molti anni il mondo cattolico non capì, forse non ha capito del tutto neanche adesso. Cioè, la distinzione tra l'azione, lui la chiamava così, azione cattolica e azione politica. Cioè, l'azione cattolica è tutta l'attività che la Chiesa fa, il pastorale, eccetera, e l'azione politica. In che senso è una distinzione? Sono due ambiti diversi, distinti. Vuol dire che la politica ha una sua logica, i suoi obiettivi, l'obiettivo lo vedremo, qual è l'obiettivo della politica? Questo servizio per costruire la città dell'uomo, per bene comune, per costruire... Allora, queste cose vanno distinte. La politica ha i suoi obiettivi, ha i suoi metodi, ha una sua laicità. L'avete un padre sorgi, no? La politica è fondamentalmente una vita magica. Dire questa roba qui, in quei piani, fu una cosa clamorosa, eh? Perché nella mentalità di molti cattolici c'era un'idea confusa, in fondo non si riusciva a distinguere i piani, era tutto insieme. Se vuoi fare le liste dei candidati al comune, dov'è che li facevi? Nella casa del parro. Questo pastrocchio viene narrato, e si è andati avanti per lui. E lui è per tutta una serie di grani, dei vertici, della gerarchia eclesiastica, proprio per l'interno del percorso. Quindi, un'elaborazione sull'idea di politica e la sua distinzione rispetto a tutto il resto dell'attività ecclesiale. Secondo elemento fondamentale, che è la sua vera vocazione, l'impegno per la formazione dei giovani. All'interno di questo gruppo dei tossiciani, che pubblicavano tra l'altro una rivista importante che chiamava croniche sociali, era nato questo gruppo, questa iniziativa, chiamati gruppi servire, che cosa si prefigeva? Si prefigeva di formare i giovani alla sensibilità politica, alla politica democratica. Perché il problema di formare una coscienza politica democratica era tutto da costruire. Cioè i nostri giovani, i giovani dei Mussolini, cioè i ragazzi nati dal 20, 21, 25 anni lì, che oramai erano gente che andava sui 30 anni. Cioè erano tutte persone che andavano, parliamo poi degli adulti, che andavano educati, al senso di una coscienza politica democratica. Sono i gruppi servire dovevano avere questo. E girò l'Italia. C'è una testimonianza bellissima di quell'uomo che poi fu particolarmente bizzarro, che è il nostro Presidente, il Presidente Consiglia, con le sue bizzarrie e stranezze. Ma c'è una testimonianza straordinaria su Lanzati. Lo riconosco come mio maestro, perché io ero un ragazzotto coi calzoni corti in Sardegna e lui veniva in Sardegna per educarci a pensare nel senso della politica, di una coscienza politica democratica. E queste due cose. L'elaborazione di un'idea della politica con la sua autonomia e il lavoro presso i giovani per la fornazione. E siamo al Concilio. Il Concilio ecumenico Vaticano II, lo sappiamo tutti, l'ho lanciato da Papa Giovanni, finisce nel 65. I primi cinque anni sono gli anni del Concilio. e terminato questo grande evento equesiale, ma che fu anche un evento di carattere mondiale, non riguardava soltanto il mondo dei cattolici, Lanzati si impegnò direi in maniera indefessa, girava parrocchie, diocesi, oratori, gruppi culturali, pur essendo rettore, nel 68 diventa rettore, dove lo chiamavano evidentemente, non doveva mica far propaganda, dove lo chiamavano, per presentare il Concilio e soprattutto per insistere su quell'idea che era un po' il cuore della sua visione. Cioè l'idea del Lumen Gentium, uno dei più importanti documenti del Concilio, numero 31, dove parla dei cristiani normali, cristiani comuni, dove siamo tutti noi, qui c'è la verità di Sant'Edozzi, cristiani comuni, questo è un compito. Poi c'era anche il giovane prete, tra i due minuti. E' andato, però è un don Agostino che ha qualche altro futuro al primo. Che però non ha i calzoni corti. Chi è questo? Va bene. Va bene. Allora, dicevo, per aiutare a capire quel famoso passaggio lì che avete sentito citare per loro vocazioni, cioè qual è la vocazione del laico, del cristiano semplice e comune, come diciamo noi, è quella di cercare il regno di Dio trattando le cose temporali ordinando il secondo Dio. Questo qui è un po' un gergo teologico che va a capire cosa vuol dire. sostanzialmente, una cosa molto semplice, che la vita cristiana, il cammino del fedele cristiano, passa attraverso una fedeltà alla terra. Cioè, non si è cristiani perché faccio le novenie al padre Pio, questo, il tizio, ok, la Madonna, non gioco. Cioè, tutte cose rispettabilissime, per l'amore del cielo, non intendetevi male, anche se vi lascio andare qualche volta, qualche volta, non intendete tutto, ma benissimo, la vita. Cioè, la vocazione fondamentale cristiana è quella di prendere sul serio la sua vita. c'è la sua vita che è fatta di che cosa? Della famiglia, del lavoro, degli impegni fuori lavoro, della volontaria, del tempo libero, questa roba qui, prendere sul serio questa cosa qui. E, fare in modo che tutta questa attività, la famiglia, il papà, la mamma, le figlie, eccetera, sia ordinata, sia orientata, cioè sia sostenuta, eh, sostenuta dal modo con cui, io vorrei poi dire tante altre cose, il modo con cui Dio pensa queste cose qui, il modo con cui Dio pensa la famiglia, il modo con cui pensa la vita sociale, ecco, ha girato per spiegare questa roba qui, il tuo cammino di vocazione cristiana è legato alla fedeltà ai tuoi impegni normali, della vita normale. certo che non vanno svolti così comunque, vanno alimentati di un modo di intendere di valori, sostanziati di valori che sono quelli, quelli propri di come Dio pensa queste realtà, come si fa capire di cosa Dio pensa, come Dio pensa queste realtà, e quindi Dio evidentemente è innanzitutto alla Sacra Scrittura, è la parola di Dio, al Vangelo, eccetera. la Sati diceva sempre, dove due stelle polari aveva, la Costituzione, la Costituzione, e il Concilio, ma io dico, ma prima di queste due pure importanti stelle polari ce n'era una preghia, che era il Vangelo, prima c'era quella di Dio, prima c'era quella di Dio. La Costituzione, avete sentito, lui era burro, dice, se fosse stato qui non saprei dirgli cosa avrete votato, se sì o no, al referendum, ma non li abbiamo. il rammarico qual era? Il rammarico era quello di vedere una Costituzione con un documento straordinariamente bello, ricco di valori, ma non adeguatamente attuato. La democrazia è una cosa straordinaria, dice, ma non riusciamo ad attuarla come si converrebbe. quindi il passaggio da una Costituzione formalmente definita ad una Costituzione veramente attuata. Faccio un esempio. Pensate al problema della scuola. Nella Carta Costituzionale sta scritto che l'obbligo scolastico, cioè l'istruzione per tutti i nostri ragazzi, doveva essere di 8 anni, fino al 14esimo anno. quando siamo riusciti a realizzare questa cosa qui, che è una cosa di incostituzione, nel 62-63, quando è stata istituita la scuola media unica. Cioè l'obbligo scolastico è stato portato così. E' soltanto un esempio, potremmo fare tanti esempi sul piano, tanti versanti giuridici, tanti versanti dell'economia, eccetera, per dire come la Costituzione e il suo criccio faceva fatica ad essere attuata nei fatti. Soprattutto con attenzione ai problemi, diciamo, ai problemi della democrazia sociale, ai problemi dell'equità sociale. Cioè un paese che ancora troppo registrava sull'interno degli squilibri dal punto di vista sociale e della distribuzione di vendi e delle imprese. questo era il suo grande croccio. La politica. Certamente l'Azzati, anche nel periodo del retorato, è stato continuamente attento e sensibile ai problemi della vita politica. ma non perché lui fosse un politico, come dicevo, di professione, ma perché si rendeva conto che l'esperienza della vita umana, innanzitutto, della vita di un semplice uomo, di una semplice donna, evidentemente, a maggior ragione vuol dire la vita cristiana non può non avere dentro questa dimensione strutturale della politicità. A me non interessa niente la politica, queste cose che qui non mi interessa. No. Cioè la nostra vita, anche se uno non si interessa, è strutturalmente politica in che senso? Che ha a che fare con la polis, questa parola greca, vuol dire la città. Lazzanti quando parlava di politica, usava questa espressione un po' lunga, eh? La città dell'uomo misura dell'uomo. La politica è questo servizio in favore della ricostruzione di una città dell'uomo misura dell'uomo. Allora, dicevo, la sua sensibilità era legata a questo fatto che la vita nostra, anche se uno dice ma io non mi interessa, ha una sua politicità. E tutti i nostri gesti, in fondo, hanno una ricaduta politica. Se io faccio il commerciante e per principio non do le ricevute o le fatture ai miei clienti, quello è un atto politico. In che senso? Nel senso che ha una ripercussione sul modo di intendere e quindi sul modo di costruire o non costruire questo. Questa è questa società. ci siamo, a buon intendito, al poche parole. Cioè, tutti i gesti che noi facciamo hanno riferimento alla vita della città, cioè alla vita della polis. Alla vita della polis. Se io sono un disgraziato incosciente che non tiene rispetto per il codice della strada e poi combino i disastri che combino, per la loro ricerca. Capite che ha a che fare con la vita della città. Nel caso più grave ammazzano persone. Se magari sono ubriaco, impasticato. Cioè tutto quello che... E quindi il senso della politica, non è che lui vuole fare il politicante, ma... E questo era il messaggio che cercava di... di far passare, di far passare, di far passare le contate che aveva, soprattutto i mezzi giovani. e vengo a concludere. Ma qual'era la convinzione forte in Lazzati? Che non basta dire politica, servizio per la costruzione della città dell'uomo, misura dell'uomo. Non basta dire questa cosa qui. Bisogna, per riuscire a realizzare questo obiettivo, formare degli uomini all'altezza del complico. Cioè, bisogna formare le coscienze, diceva Padre Sorcio. bisogna formare la consapevolezza di questa cosa. Ecco allora, non si potrà mai costruire una città a misura d'uomo, se i cittadini, cioè noi, cioè noi, non siamo adeguatamente formati per questo compito. Cioè, non abbiamo consapevolezza di questo compito. E qui scatta tutto appunto il problema della formazione. Oggi abbiamo fatto dei passi in avanti, anche nel campo della scuola, sapete che si parla di educazione, la cittadinanza, cittadinanza attiva, cittadinanza del complico. Sono cose belle, importanti. Il lazzatico, a queste idee, era molto chiara. Non si costruirà nulla di positivo, se non ci sono uomini e donne formati. e, devo dire, tutto il suo lavoro, fatto in mezzo ai giorni, aveva come elemento costantemente presente questo aspetto. Questo aspetto. Del resto, chi era presente agli ultimi istanti della sua vita, sembra che le parole ultime che ha detto, che ha pronunciato sul letto di morte, furono coltivate l'uomo. non coltivate il prezzemolo, che pure è importante, non ci chiedete, non ci chiedete. Coltivate l'uomo, cioè impegnatevi, diceva 3-4 persone presenti al capezzale, impegnatevi per far crescere l'uomo, e anche la donna evidentemente, Signora Caimile, vedete che si chiama Caimile, E anche la donna, fatele crescere nella pienezza della loro umanità, perché non si va da nessuna parte, e qui possiamo fare, per esempio ci sono anche gli amici dell'Antico, questo nostro paese non va da nessuna parte, se non cresciamo in umanità, in umanità, ecco. E questo fu il suo ultimo messaggio, per dire come questa tensione alla componente formativa fosse in dubbi tanto forte e radicata. vorrei chiudere con un riferimento, una parola del Cardinal Martini, del Cardinal Martini che ebbe una grande stima in corso Lazzati, fu molto vicino, fu davvero un uomo molto vicino a noi, e ebbe più occasioni per intervenire, questo è un libretto che raccoglie tutti gli scritti di Martini su Lazzati, tutti gli scritti di Martini su Lazzati, il senso della ricca esistenza, questo grande laico cristiano del nostro tempo è tutto racchiuso nella doppia polarità della paradossale cittadinanza, perché il cristiano è tutto di questo mondo e al tempo stesso è di un altro mondo. Un'altra sera, si potrebbe fare lungo discorso, ci sono già tre sere, le tre sere che imparo ci facevano una volta, non ci fanno il tritmo, è il tritmo, dunque, è tutto racchiuso nella doppia polarità della paradossale cittadinanza, cui facendo l'ignoto autore della lettera di Oneto in un testo dei primissimi secoli cristiani per tratteggiare la condizione dei primi cristiani nel mondo classico e pagano, quello che è l'anima nel corpo, questo sono i cristiani del mondo. Così si esprime l'autore antico e così il Vaticano II la figura e il compito del laico, mostrando l'urgenza del suo responsabile protagonismo di tutti i confini nella potenza dello spirito più che nelle precarie garanzie istituzionali. E l'ultimo passaggio, sempre del carnea Martini in un'altra circostanza, dice così, e con questo chiudiamo, ecco, lazzati, ci appare in modo vero un uomo. Cioè io, quando giro a parlare di queste cose qui, e giro a parlare anche di altre cose, intendiamoci, dico sempre, guardate, queste grandi figure in fondo di uomini che sono un po' eccezionali, sono mica dei santini da mettere lì, sono uomini, uomini che vivono per tutte le fatiche dell'essere uomini. Lazzati ci appare in modo vero un uomo che era bruciato interiormente dal desiderio di corrispondere alla chiamata di Dio, di attuare in sé, nel mondo, la verità del Vangelo, un uomo che aveva dentro questa carica, e poi questa chiusura che è molto bella. In lui, il Vangelo di Gesù, ha assunto il volto dell'uomo contemporaneo. questo è Maria Martini, un altro personaggio sul quale si potrebbe fare una serata e siamo alla quarta, con la vita, con la vita. Grazie.